Ci siamo! Allora, siamo contro il troll. Teoricamente con un surf dovrebbe... Oh, finalmente! Brainlink. Condividi esperienza. Ma tra tutti i nemici che ci sono, che potevo ammettere, i chef, perché è divertente. Spiegatemi come fa questo a far paura a qualcuno, Cristo! Mi volete proprio male, vero? Guarda che fa il gatto, guarda che fa il gatto, guarda che fa il gatto. Tio, non ci voleva tanto capirlo. Oh, e così vorreste entrare nel... Ecco, ora i bimbi nutellosi non potranno dire che Pokémon è un gioco per bambini. C'è un cazzo di MP5, evviva! Sì. Trainer. Status. The fuck is going on here? Non posso muovermi, cos'è? Oddio. Ok, questo qui ha... Oh, ti odio! Se non mi dispiace, mi allenerei un attimino qui, visto che c'è la sacca. E ci rivediamo fra poco, penso. Eccoli qua, sono tutti potenti, tutti fortissimi, tranne te. Non ce l'enerò mai. Ma perché? Sei schifoso! Zitto! Wow! No, seriamente, mi volete... Sta veramente male. Oh, però lì c'è una scala. Ok. Sì, sì, flashback. Guarda che fa il gatto, guarda... Gesù Cristo. Sì! Suka al 31. Suka impara... Vi sto amando, letteralmente. Dio santo, eruzione. Sì, bla 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 bla. Tu fuggi, scommetto. Perché è divertente. E infatti mi rimane a zoccoletta. Perfetto. Parte la sfida di Obi Wan Kenobi e manda seiblei al 29. Wow... Fortuna che non esiste ancora l'abilità burla, ma mi sta facendo smadonnare comunque. Dio santo... Ma è infallibile! Oh, muori! L'aman è al 31. Wow! Mendo l'aman allora, dai. Tu, caro mio, vai a dormire. Ok, adesso Ember Merda Sì Amnesia Dispi E sassato E Una volta che non devi fallire, fallisci Vaffanculo Panetta troppo buona Sì, questa me la potevo anche risparmiare Dio, muori, sì Punto, 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 punto Bello il messaggio della sconfitta Wow Sì, è Birby Oh, va che bello Yeee No Dai, muori Guarda, ora fa la protezione Perfetto Ancora protezione Terza volta protezione Allora, teoricamente, devo andare a La Come Cristo si dice Quella città vicino al vulcano E cordilava Coglione Ma come devo andare a prendere la funivì? Ah Raú E che cazzo è? Il fratello di Demon Belial Oddio Frost Demon Clothlock Un altro Roar Fratello di Demon Belial Vuole lottare Ahaha Ahaha Ok Sotto un vulcano c'è una caverna gelata Perfetto Anche qui sei Che palle Vai via Wow Siamo al monastero E come promesso Caro A Ti metterò nel box Sei un bastardo Lo so Aspetta Aspe No No No, seriamente Wow Ok, adesso dammelo però Non hai spazio nella squadra E si Qui tipo c'è Qui c'è una forza invisibile Che mi blocca Non so perché Ahaha Non vado avanti Che cazzo è qualcosa L'imparta Dio santo Cos'è? Monastero di Shaka E direi di interromper qua La nostra parte Anche per oggi Ciao belli